Ciao, oggi sei a Cassino, siamo ospi di questa casa singola con ampio giardino vediamo subito quello che è il battuto di cemento sul quale ci troviamo in zona via Peola grazie alla tecnologia a disposizione quindi al 360 gradi potete spostare con il dito sul cellulare o mouse in modalità computer io mi sposto per permettervi una migliore visualizzazione e quindi partiamo dalla vista frontale sulla piana di Monte Cassino e tutta quella che è la vegetazione con le varie montagne girando verso la destra o sul cellulare o col mouse vediamo quelle che sono le due rampe di accesso al primo piano di riposo e quindi le seconde due scalette che danno quindi la possibilità dell'immediato accesso a quello che è il piano e unico livello terra la composizione ricordiamo due camere da letto, soggiorno con angolo cottura, due bagni per tutte le altre informazioni mentre io riguadagno la posizione iniziale vi rimando sul sito ciolficasa.it